Dammi un 5 Silvio. Fedez si è recato in Puglia con un jet privato, accompagnato dal suo amico a quattro zampe, Silvio. Ha affittato una villetta per godersi qualche giorno di relax. Tuttavia, la principale ragione del suo viaggio era un concerto con Ami Schilla per Radio Norba. L'evento è stato un grande successo e al ritorno Fedez ha trovato ad accoglierlo il suo fedele amico Silvio. La mattina successiva è iniziata con un dolce risveglio e un tentativo di batti 5 con il cane. Nonostante la buona volontà, il cucciolo non è riuscito a eseguire il comando, essendo ancora troppo piccolo per averlo imparato. Questa parentesi pugliese ha offerto a Fedez l'occasione di combinare lavoro e piacere, mostrando ancora una volta il suo lato umano e affettuoso. Il rapporto speciale con il suo amico a quattro zampe è stato protagonista di Teneri Momenti, che sicuramente faranno sorridere i suoi fan. Grazie a tutti.